Iniziamo insieme in queste ocarestie, rendendo grazie al Signore, abbiamo accolto i nostri ragazzi atleti che da Sant'Antimo sono partiti. E' la gioia che è davvero proporzionale alla strada che si fa alla fatica. Si tratta di un saluto, di un grazie e devo rivederci anche che vuole condensare quello che non si può condensare, cioè tanto tempo, passate insieme. Grazie a tutti davvero. Buon cammino è la cosa più importante, buon cammino ognuno dove si è andato, buon cammino. Ulla! Ulla!